segnalo alcune scadenze della prossima settimana il 17 dicembre il termine per le scuole per iscriversi alle attività di avviamento alla pratica sportiva e campionati studenteschi per l'anno scolastico 2019 2020 la prossima settimana scadono anche i termini per alcuni interessanti concorsi per gli studenti entro il 20 dicembre le scuole interessate possono iscriversi alle olimpiadi di robotica il tema per l'edizione 2019 2020 è acqua terra cielo robot al servizio del nostro pianeta la competizione è dedicata all'ideazione progettazione e costruzione di prototipi di robot in grado di svolgere funzioni utili al miglioramento delle condizioni ambientali del nostro pianeta e delle condizioni di vita dell'uomo il 21 dicembre è invece il termine l'ultimo per iscriversi al premio cosmos degli studenti che premia le 5 migliori opere di divulgazione scientifica nei settori della fisica matematica e astronomia arrivederci alla prossima settimana